Il segreto, puntata mercoledì 25 ottobre 2017, passo falso di Severo, anticipazioni, dopo aver ricevuto la lettera di Lucia Torres, Camila ha bisogno di denaro ma nasconde suo marito il vero motivo, Onesimo va su tutte le furie quando scopre che Tayloris e Grasia vendono accendini, le due donne tentano di far capire al loro parente che stanno agendo nell'assoluta legalità, Nicolas e Camila fanno di tutto per poter fotografare Damian, alla Val d'Esalce, date le ritrosie del giovane, viene in mente un'idea geniale, un ritratto di famiglia, Hernando accetta entusiasta, il giovane, preso alla sprovvista, resta come paralizzato, prima parte, passo falso, Raimundo, che aveva finto di dover partire mentre in realtà era rimasto a puente e bieco ed aveva sostenuto Severo nella sua commedia inscenata ad uso e consumo di Cristobal, ritorna dal viaggio, colpito dalla notizia di quanto è accaduto a Maurizio, dimentica la scusa con la quale aveva giustificato la sua partenza improvvisa, questo, naturalmente, lo mette in grande difficoltà soprattutto agli occhi di Francisca, che lo conosce profondamente e dalla quale non sfugge il benché minimo dettaglio che lo riguardi, come se la caverà adesso l'ex locandiere di fronte al fuoco di fila di domande che lo aspetta, seconda parte, rivolta contadina, dopo aver salutato l'amico Severo, Carmelo rientra alla Miela Amarga, dove Cristobal lo aspetta trionfante per brindare alla disfatta ed alla fine tragica del Santa Cruz, l'uomo, però, si troverà immediatamente di fronte alla prima difficoltà, fuori dalla tenuta, infatti, ci sono, con intenzioni tutt'altro che benevole, i mezzadri, che, furiosi e minacciosi, reclamano i loro diritti, di questo, il figlio di Salvador Castro si renderà conto ben presto quando, nel corso di una grande festa da lui organizzata, il romperà improvvisamente in casa un bracciante, tutti capiranno che l'uomo non scherza, i suoi toni non sono affatto pacifici, e questo è solo l'inizio di lunga serie di problemi fra il nuovo proprietario e di suoi dipendenti. Ultima parte, i dolori della giovane Beatriz, Beatriz vive un momento veramente difficile a causa della sua situazione sentimentale, la giovane, infatti, sta cercando disperatamente di ricostruire il suo rapporto con Mattias, che lei stessa aveva lasciato per Ismael, rivelatosi poi suo fratello Damian. Quando la figlia di Hernando ha cercato di riappacificarsi col Castaneda, lui ha mostrato di non volerni più saperne di lei. Beatriz, dunque, si confida cuore aperto con Emilia, madre adottiva di Mattias. La donna ascolta lo sfogo della ragazza e vorrebbe confortarla, ma non sembra esserle di grande aiuto, l'impresa non appare infatti delle più semplici, vista la determinazione di Mattias a non voler rilacciare con la giovane Mella. La loro rottura è dunque definitiva.